Buongiorno a tutti, io sono Francesca Coggiola, collaboro con l'Alta Scuola e nell'ambito del progetto PLG collaborerò con l'Ecomaratona del Monferrato. Le ragioni che mi spingono a partecipare e a collaborare a questo progetto sono un amore per la natura e l'amore per il Monferrato in generale, quindi con una serie di immagini e con la fantasia cercheremo di dare la prospettiva e far capire alle persone qual è la prospettiva sia del territorio che dei partecipanti alla maratona stessa.